Continua l'iniziativa Ragazzi in Aula, progetto che permette ai giovani delle scuole superiori di conoscere i processi decisionali che portano alla creazione delle leggi. Il 29 ottobre si è riunita in commissione la classe terza B dell'Istituto Tecnico Turing Flying Institute di Caselle Torinese. Gli studenti hanno presentato un progetto di legge sugli incentivi per la valorizzazione delle eccellenze nel settore aeronautico.